3 dicembre, giornata dedicata alle persone disabili, per promuoverne i diritti e la piena dignità. Nel 1976 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'Anno Internazionale delle persone disabili, invitando i Paesi membri a definire un piano d'azione incentrato su parità d'opportunità, riabilitazione e prevenzione. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 15% della popolazione mondiale vive con qualche forma di disabilità, l'80% di essi nei Paesi più a basso reddito. Piena partecipazione e uguaglianza, intese come diritto a partecipare pienamente alla vita e allo sviluppo della propria società, a godere di condizioni di vita uguali a quelle degli altri cittadini. Per dare ai governi il tempo adeguato ad attuare queste attività raccomandate, l'Assemblea Generale ha proclamato dal 1983 il decennio delle persone disabili, a conclusione del quale nel 1992, con la risoluzione 47.3 adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, è stata indetta la giornata internazionale delle persone con disabilità, recepita l'anno successivo dall'Unione Europea. La Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, adottata nel 2006, ha ulteriormente migliorato l'affermazione dei diritti e del benessere delle persone disabili, con l'Agenda per lo sviluppo sostenibile del 2030. L'impegno a garantire i diritti non è solo una questione di giustizia, è un investimento nel futuro comune. L'impegno a garantire i diritti delle persone disabili, con l'agenda per la